Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per i prossimi giorni. Partiamo dal satellite e possiamo notare la coda di una perturbazione che interessa gli stati alpini e la Germania a suoni temporali. Inventazione di aree un po' fresca però già presenti anche al nord Italia con temporali grandi enigeni sul nord-est. Per quanto riguarda la giornata di sabato, segnaliamo un cedimento di alta pressione anche sulle regioni del centro-sud con infiltrazioni di aria fresca e quota. E quindi giornata temporalesca a tratti sul medio adriatico, appenino centro-medionale, qualche temporale si muoverà però verso anche Lazio, la Campania. Per la Sardegna, le regioni settentrionali, qui una bella giornata. Tra l'altro con venti deboli o moderati da nord però avranno il merito di rendere il caldo moderato, ben più sopportabile rispetto a una settimana che è stata bollente in alcune zone con tanta affa caldo opprimente appunto. Andiamo a vedere invece la tendenza per domenica quando il calo termico si avvertirà anche al sud e di fatti possiamo notare delle temperature tra i 29 e i 33 gradi. Quindi non di più, insomma sono valori un po' più contenuti rispetto ai giorni scorsi, anche al nord massime tra i 30 e i 32 gradi diffusamente. Uno sguardo alla nuova settimana che vedrà l'anticiclone nuovamente, anche se nella seconda parte di settimana dovrebbe abbassarsi il flusso atlantico e proprio nel weekend che ci conduce al mese di luglio qualche temporale al centro-nord con un lieve calo termico. rimanete aggiornati però scaricando l'app di 3B Meteo oppure trovate tutto sul nostro sito web.